Scegliendo a caso un passeggero presente in questo istante all'aeroporto di Francoforte, qual è la probabilità che egli sia europeo? La probabilità cambia se sapessimo già che la persona proviene da un paese francofono. In questo caso staremmo valutando la probabilità di un evento A condizionata al verificarsi di un altro evento B. Si dimostra che la probabilità condizionata è uguale al rapporto tra P di A intersecato B e P di B. Infatti, sapendo che l'evento B si è verificato, né i casi favorevoli né i casi possibili sono diversi da quelli della situazione di partenza. La probabilità condizionata è dunque diversa. Legata al concetto di probabilità condizionata è la formula di Bayes. Supponendo che un evento A dipenda da altri due eventi B e C, detti cause, permette di determinare la probabilità che si sia verificata una delle due cause sapendo che l'evento è accaduto.